Carissimi, è dall'incontro con i vari dicasteri della Chiesa Romana che vorrei appunto rivolgere un pensiero a tutti voi. Attraverso la dettagliata descrizione della vita della nostra Dioce si viene fuori uno spaccato particolarmente vivo, particolarmente attento alle esigenze del nostro popolo. Anche noi come le piccole diocesi delle aree interne avvertiamo le grandi problematiche dello spopolamento, della fuga dei giovani, la prova economica alla quale sono sottoposte le famiglie, la perdita dei costi di lavoro, il lavoro in nero, il lavoro precario, la salvaguardia e la custodia dell'ambiente. Eppure nonostante tutto vorremmo continuare ad annunciare il Vangelo con lo stesso ardore, lo stesso entusiasmo e la stessa passione. Ecco perché dalle parole che il Santo Padre ci rivolge costantemente vogliamo cogliere una conferma ai nostri cammini di fede e un sostegno a una visione sinodale che ci permette di entrare verso il futuro con rinnovato vigore ed entusiasmo.